Prof. Giuseppe Luongo, vulcanologo, pare ci sia un periodo di tranquillità, di quiete, è diminuita la velocità del sollevamento del suolo. Cosa può dirci che sta accadendo? Sì, in realtà il sollevamento del suolo è importante perché le deformazioni della parte più superficiale, gli strati superficiali, fa sì che poi si hanno i terremoti. Cioè si raggiunge il limite di rottura delle rocce e abbiamo fratturazione. I terremoti aumentano sia di intensità che di frequenza se aumenta la velocità del sollevamento del suolo. Aumentare la velocità del sollevamento del suolo significa che sta agendo qualcosa che spinge in profondità con maggiore velocità. Le rocce non riescono a sopportare questa sollecitazione e si fratturano. Se si abbassa la velocità, come osserviamo ormai quasi da due mesi, l'azione agisce lentamente sulle rocce. E quindi le rocce tendono a deformarsi lentamente e ci vuole molto tempo per raggiungere, o molto più tempo comunque, per raggiungere il limite di rottura. O addirittura in certi casi la velocità è talmente bassa che le rocce invece di fratturarsi si deformano solo plasticamente, in modo viscoso. E cioè si cambia la loro, diciamo sì, si innalzano ancora, ma si innalzano talmente lentamente da non fratturarsi. E quindi vediamo un sollevamento ma non abbiamo i terremoti. Quindi è questo, diciamo sì, il rapporto. Deformazione, terremoti. Velocità maggiore, maggiori terremoti e maggiore energia, diminuisce la velocità, diminuisce l'attività sismica fino ad arrestarsi. In questi giorni si è parlato di trivellazioni per controllare la velocità del sollevamento del suolo, giusto? Sì, le trivellazioni ipotizzano una sottrazione di gas dal profondo. E così sottraendo gas sottraiamo la causa, questo secondo chi ha proposto questo modello, questa interpretazione, sottraendo gas si abbassa il suolo. Ovvero, questo succede in certi casi, ma non siamo in aree, diciamo, vulcaniche, dove c'è una sorgente che alimenta continuamente le rocce sovrastante con gas. Allora, se vogliamo fare un'operazione di questo genere, dobbiamo fare un progetto e quindi dire, c'è una sorgente magmatica che libera tanto gas. E allora io devo realizzare tante perforazioni capaci di sottrarre quei volumi dalle rocce sovrastanti. E' stato fatto questo? No. Io ritengo che questo non sia neanche possibile, perché noi non sappiamo, non riusciamo a prevedere il comportamento del magma profondo. Se fossimo capaci di fare questo avremmo già capito come difenderci in modo deterministico, cioè con molta precisione dal bradicismo. E non è così. Quindi diciamo lei è contrario oppure no a queste trivellazioni? Le trivellazioni non servono ad affermare il bradicismo, le trivellazioni servono a tirare fuori energia geotermica. Se vogliamo fare l'energia geotermica verifichiamo quali sono i pro e i contro dell'energia geotermica in questo territorio. E' evidente che l'energia ci sta in profondità ed è un gran peccato che noi non abbiamo pensato negli anni passati a realizzare delle centrali geotermiche. Ora che il territorio è densamente urbanizzato è evidente che dobbiamo fare i conti con questa urbanizzazione. Ora siamo a 80.000, sul territorio di Pozzuolo sono oltre 80.000 persone. Nei tempi passati era la metà di questo, quindi era più facile realizzare senza creare problemi al territorio. Allora io proporrei, utilizziamo questa energia geotermica a bassa entalpia ma la utilizziamo come fluidi caldi per il termalismo. Riprendiamo il termalismo seriamente con una visione moderna e quindi di fitness e non abbandoniamo aria come Agnano, aria come la costa puteolana e utilizziamo questa risorsa. Quindi mi sembra un po' infantile, mi dispiace dirlo, ma questo è infantile pensare che facciamo le perforazioni e si sgonfi il palloncino. Riprendiamo il termalismo seriamente con una visione moderna.